Niente votazioni online. Il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, alla fine così ha firmato un decreto di proroga degli organi sociali dei quattro quartieri della Giostra del Saracino, che verranno rinnovati entro il prossimo 31 ottobre. Sant'Andrea, Santo Spirito, Porta Crucifera e San Lorentino si erano infatti opposti ad organizzare elezioni online o comunque a distanza, attualmente l'unica modalità disponibile in virtù dell'emergenza sanitaria. I quartieri pretendevano che le consultazioni si svolgessero in modo tradizionale, ossia in presenza. Così il primo cittadino alla fine non ha potuto far altro che prendere atto della volontà dei principali attori del mondo giostresco ed ha firmato il decreto di proroga per dare continuità all'attività in essere, compresa la non facile organizzazione della manifestazione e di tutte le cerimonie ad essa collegate. Adesso, infatti, è già ora di pensare alla prossima giostra. Dopo l'annullamento delle due edizioni del 2020, giugno si avvicina nuovamente e l'incertezza ancora regna sovrana. Il gran giurì, formato dai rettori dei quattro quartieri e dallo stesso sindaco Alessandro Ghinelli, che si è mantenuto la delega alla giostra, dovrà infatti elaborare velocemente un piano B che convinca il comitato di sicurezza preseduto dal prefetto di Arezzo, Anna Palombi.